buongiorno a tutti oggi vediamo questo router non è una recensione ma solo uno sguardo veloce l'ho provato ci sono alcune cose che non mi piacciono e ve le racconto velocemente allora innanzitutto questo è un router brandizzato ma sotto è un router xiaomi con un x62 qualcomm sotto quindi un modem decisamente moderno è stato fatto da pochissimo mi è stato prestato gentilmente da enzo per provarlo e vi mostro velocemente tutto quanto allora partiamo subito dal nostro unboxing ok qua arrivato qua avevo dietro un lhg 18 questo come si presenta come vedete tutto scritto in tedesco ecco qua già vedete che è un x62 dentro quindi dovrebbe garantire ottime velocità wifi 6 poi abbiamo il tedesco non lo capisco ma va bene sarà 248 dispositivi due prese lan one da gigabit anche qua non capisco perché non vadano a due e mezzo ma va bene qui dovrebbe essere che praticamente si associa direttamente vnfc quindi probabilmente gli passa la password tutto quanto non l'ho testato perché onestamente inserire la password non l'ho mai reputato un gran problema e va bene questo non so va bene ci saluta questo è come si presenta il pacchetto l'alimentatore l'alimentatore un po più grosso del solito vedete che è un 12 volt 3 ampere quindi 36 watt massimi di questo alimentatore si tradisce xiaomi qui c'è scritto anche sotto ma in realtà dentro router non si legge molto il router è molto pesante è molto pesante quindi io penso sia con dentro una gran bella aletta di dissipazione suppongo sia per quello che sia così è veramente massiccio tosto si presenta molto bene queste le due porte questa è la presa di alimentazione reset sim card in formato nano pulsante di accensione qui come vedete da qualche parte è scritto xiaomi cb 0401 si trova qualcosa in rete ma poco una stranissima porta di una stranissima indirizzo di amministrazione ma vabbè chi si fa e frega e le solite password per entrare e qui una comparativa con gli altri router che avevo in giro il mio fido è solito di 618 che un po più piccolo dell'818 anche sbeccato tra l'altro il router in questione quale nr 5101 e qua il il fido netgear m5 vi faccio vedere subito io come sempre lo provo su questa bts che supporta il 5g con l'n78 e come sapete io bene o male abito da queste parti diciamo subito che il router non ha porte d'antenna esterne quindi ha solo antenne interne vi faccio vedere l'interfaccia di amministrazione chi conosce un po' questo capisce già che monta internamente openvrt come sistema operativo adesso entriamo ecco i dati che passano sono veramente pochi ok l'unica cosa che ci dice è che siamo in b3 più b7 più b20 più b1 più n78 il segnale dice che è forte in realtà non è fortissimo vediamo se ci dà anche qualche informazione ok e siamo con un meno 95 non si capisce bene se questo meno 95 sia calcolato sull'n78 o sulla b3 è tutto da vedere il sin era accettabile abbastanza buono direi e solite informazioni di rete l'apn l'ha preso in automatico e vedete qua tutte le impostazioni si possono mettere altri a pieni eventualmente qua potete fare lo scan della rete oppure fare manuale nel pin eventualmente sono cose che non ho testato adesso vi dico questo perché è stata una prova un po veloce perché non mi è piaciuto molto proprio come prestazione in casa e non avendo antenne connettori d'antenna insomma non ho reputato il caso di perderci troppo tempo sono sincero questi sono le le porte come vedete potete fissarlo oppure invertirle ma vabbò non ci interessa più di tanto come opzione eventualmente via ethernet potete anche andare in ppoe fate quello che volete potete configurare il dns manualmente questo ogni tanto interessa come vedete la porta gigabit potete anche configurare la più bassa ma in caso vi servo potete clonare il mac address e poi ha anche la possibilità di funzionare come principale via ethernet e secondario mobile o viceversa sono cose che non ho testato più di tanto andiamo avanti security va bene co abilitati https e tutto quanto questo è un open vrt semplificato il router risponde un po lentamente devo dire non è super brillante anche l'interfaccia web però insomma non è che ci passiamo tutto il tempo dentro l'interfaccia web e faccio vedere velocemente potete assegnare ip static ok li rileva direttamente ve li propone ipv6 vedete un po se vi interessa system settings questo è l'ultimo firmware l'ha già preso curioso non si può fare niente però si può scaricare il log questo ogni tanto mi stupisce vi faccio vedere ok vi scarica il log e questo è il contenuto dei file addirittura sembra quasi un router non so di demo di test di debug mi sembra che onestamente questi te questi dati interessano veramente poco agli utenti finali comunque va bene andiamo avanti reboot factory data reset backup system language non queste sono le lingue ovviamente l'italiano se lo sono dimenticati l'nfc non provata non mi interessa onestamente potete abilitare vpnp message management non provato perché ho una sim dati in questo momento non riesco a fare né voce né sms non nulla di nulla quindi questa parte qui proprio scusatemi ma mi manca completamente qua sempre solita cosa lo status quindi è un router dove non si possono impostare bande non si possono fare sell lock cioè lo prendete e lo dovete utilizzare uno dicevo può anche andar bene ma deve funzionare bene allora in caso un comportamento stranissimo ci sono dei momenti in cui parte veloce dei momenti in cui va molto male tipo adesso va piuttosto male per il mio standard in casa va piuttosto male la cosa curiosa che poi l'ho portato sul tetto senza antenne perché non posso collegare ovviamente le antenne e ha fatto comunque prestazioni allineate con gli altri router 5g in n78 e quindi si è fatto i suoi 450 megabit ma qua in casa nella mia posizione magica dietro al monitor c'è una posizione dove prende meglio tutti i router prendono un po meglio in quella posizione niente va male non c'è nulla da fare l'ho provato più volte a volte si riconnette e parte a cannone non me lo spiego onestamente non me lo spiego non so se prematuro non so se le antenne interne lavorino male sta di fatto che un modem anche più economici in quella posizione messi tutti in automatico vadano molto meglio poi questo non vuol dire che sia così per tutti spesso succede che quello che sono le prestazioni in casa mia non siano le prestazioni in casa di un altro nel senso magari questo router arriva in casa di qualcun altro proprio diciamo fantastico a volte ci sono piccole parametri che cambiano che purtroppo ci sfugono non riusciamo a comprendere fino in fondo e quindi a me arrivo questo router lo provo dico a non mi piace non funziona non va arrivato da qualcun altro dice a bellissimo è mai successo a questa cosa anche quella lhg ad esempio lhg a me piace tantissimo come router antenna conosco alcune persone che l'hanno presa ne si sono trovati benissimo i router le bts ci deve essere un matrimonio praticamente perfetto per avere le prestazioni ottimali questa è la realtà quindi che dire questo router non andate a cercarlo c'è nel senso se avete un buon prezzo avete modo di provarlo di renderlo lo provate funziona bene secondo me ha dentro delle alette da paura sto router perché è veramente un macigno tosto massiccio bellina l'interfaccia un po lento ma bellina ma non potete impostare praticamente nulla però 45 megabit in casa qua proprio non si possono vedere spero sia utile a qualcuno e ringrazio ancora enzo per avermelo fatto provare saluto a tutti ciao aspetta un attimo allora era un po brutto lasciarvi con uno speed test da 45 megabit non era giusto nei confronti di questo routerino l'ho messo sul tetto vediamo come va sul tetto ricordo sul tetto senza antenne sul tetto anche se non è proprio all'esterno però sicuramente un segnale migliore anzi andiamo a vederlo ci dice sempre strong gira 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 ma non è che sia cambiato più di tanto ma vi faccio vedere cosa succede messi in un posto migliore il router si comporta in modo diverso niente di eccezionale però insomma bene ecco adesso sta girando bene che dire è strano è strano gli altri router tutti gli altri router 5g in casa si comportano meglio di questo questo con un po di segnale in più inizia cioè si comporta come gli altri però onestamente preferiscono nr 5101 a questo eppure avendo lei il x62 peccato andrà migliore la prossima volta xiaomi ciao